Non soltanto quote societarie, titoli e denaro, sono le stesse aziende di famiglia ora a dover chiudere i battenti. Il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania su ordine della Procura riguarda infatti anche l'impero imprenditoriale della famiglia Bosco, leader nel settore dei prodotti surgelati e molto nota nel capoluogo etneo per le sue società di catering e le sue catene di supermercati, un patrimonio da circa 20 milioni di euro. Il provvedimento segue di alcuni giorni l'operazione Money Lander della squadra mobile di Catania che il 25 febbraio ha portato all'arresto di 24 persone accusate di estorsione ed usura. In manette anche diversi esponenti della famiglia Bosco accusata di avere gestito negli anni una vera e propria banca parallele e legale. Le indagini avviate nel 2009 dopo le denunce di alcuni imprenditori caduti nel giro di usura hanno rivelato infatti che gli imprenditori catanesi gestivano in uno dei loro supermercati una sorta di centrale dei prestiti illegali finanziando commercianti e imprenditori in difficoltà per oltre un milione e mezzo di euro e con tassi che arrivavano al 140 per cento l'anno. Un giro confermato anche da alcuni collaboratori di giustizia che agli investigatori hanno parlato anche dei contatti fra i Bosco e clan mafiosi. Secondo l'accusa i Bosco avrebbero agito insieme ai fratelli Antonio e Mario Cuntro e a Giovanni di prima garantendo prestiti di ogni tipo con un'organizzazione molto precisa che prevedeva rate mensili e il ricalcolo degli interessi in aumento per ogni scadenza saltata. Gli imprenditori avrebbero poi reinvestito i capitali in supermercati e ristorazione. Dieci giorni fa il blitz della polizia con gli arresti e un sequestro di beni per venti degli indagati dal quale però restavano fuori negozi e supermercati dei Bosco per i quali invece ora scattano i sigilli.